E siamo live, siamo live, siamo live, siamo live, benvenuti a tutti in questa nuova puntata di Deep and Crimini. Io sono Palla e siamo tornati con una puntata che non volevo fare, no, dicevano tutti così. No, la volevo fare, in realtà una puntata che non era in scaletta, nella mia scaletta che non esiste, però nella mia scaletta immaginaria non esisteva. Cioè una puntata dove smontiamo alcune critiche che mi avete fatto e, secondo me, me le avete fatte con assoluta giustizia, ma che vorrei prendermi un'oretta, più o meno il tempo della puntata, per smontare e per fare chiarezza e per iniziare questo processo che è iniziato l'anno scorso, in parte, in piccolissima parte, grazie a Deep and, in grande parte, grazie a Non Aprite Quella Podcast e J-Ax, in grande parte anche da Indagini e da Stefano Nazzi, che ha iniziato anche lui a cambiare un po' la narrativa su Amanda e su Raffaele e, diciamo, concentrare le attenzioni un po' più su Rudy e su quello che ha fatto lui, non tanto su quello che hanno fatto, o che, meglio, non hanno fatto loro due. E ci sono tutta una serie di domande che mi avete fatto in tantissime, io ho un po' risposto, alcune persone l'ho chiamate al telefono, però chiaramente non posso rispondere a tutti perché mi state scrivendo in tantissime. Quindi questo, questo motivo, più una puntata di un podcast un po' problematica che è uscita e di cui voglio parlare oggi, mi hanno portato a creare questa puntata, a ideare, in non da solo, devo ringraziare le due solite persone che mi aiutano, a ideare questa puntata, che è una puntata che serve a far chiarezza su alcuni punti fondamentali del caso. E direttamente e indirettamente vado a rispondere ad alcune domande, appunto, che mi sono state fatte in continuazione. In tutto ciò, io vi ricordo, come sempre, di seguirci sui social, soprattutto su Instagram, che stiamo, appunto, utilizzando molto e dove avete sempre gli aggiornamenti più recenti. Il codice BookBeat è sempre attivo, quindi se volete avere due mesi, adesso che ce l'estate, e volete fare un paio di mesi di, con degli audiolibri, in spiaggia, in viaggio, così, il codice è ancora attivo, tra l'altro l'avete scaricato in tantissimi, ma ci sono ancora tantissime persone che non l'hanno scaricato, non vi costa niente, ma soprattutto ci aiutate, quindi se volete scaricarlo trovate il codice in descrizione. E quindi niente, grazie. Ah, l'ultima cosa che vi chiedo, sempre ovviamente gratuita, è quella di lasciare una recensione, sia su Spotify che su Apple Podcast, più recensioni lasciate, più noi siamo in classifica. A un certo punto questa settimana, trainati, chiaramente, da non aprite quella podcast, dalla puntata con Axe, siamo stati ventunesimi in classifica su Spotify, che chiaramente per un podcast indipendente piccolo come noi, come il nostro, è inspiegabile da un certo punto di vista, ma è tutto merito vostro che continuate ad ascoltarci e quindi grazie, semplicemente. Allora, io oggi vorrei parlare di alcuni capitoli che saranno anche poi nel libro, ma nel libro saranno molto più approfonditi, quindi non posso dire tutto perché ci sono alcune cose che non posso dire, però nel libro poi ci sarà una spiegazione proprio bulletproof, no, antiproiettili. Qui faremo una spiegazione leggermente più semplificata, però allo stesso tempo che lascio i pochi dubbi su alcuni dei punti fondamentali del caso. Finestra e staging, sentenze, concorso in omicidio, le balle di Rudy, aggressore multiplo, ok? Questo perché? Che in settimana mi ha scritto uno di voi, sto prendendo il telefono perché devo leggere, non il messaggio, non mi ricordo chi me l'ha scritto, ma tanto se sentiva questa puntata sa che ringrazio questa persona, mi ha scritto, guarda palla che è uscito un podcast di una giornalista, tale Raffaella Fanelli, che io conosco perché ha scritto, conosco per sentito dire, perché ha scritto un libro su Via Poma, che ho letto e che mi sembrava rivedibile, però non sono così esperto di Via Poma, e c'è questo podcast che si chiama Un Caffè con l'Assassino su Spotify, non proprio un podcast indimenticabile, a mio parere, Il Delitto di Perugia. Io ho iniziato ad ascoltarlo, ovviamente già nei primi tre minuti il podcast è pieno di cagate, ma va bene, questo non è un problema, però non è che voglio smontare un podcast, per carità di Dio. Il problema è che in questo podcast intervengono tre protagonisti di questa vicenda. Raffaele Sollecito, che dice delle cose abbastanza ovvie, cioè né giuste né sbagliate, dice delle cose corrette, ma non è che riveli chissà che cose, e poi intervengono due personaggi. Il PM Mignini, con un ruolo secondo me abbastanza marginale in questo podcast, e poi interviene il nostro amato Rudy Guede. che dice delle cose di una gravità, di una falsità, e di una importanza in negativo, che mi costringono a fare una puntata, dove si spiegano alcune cose fondamentali. Perché io, ve lo dico in tutta franchezza, ho i coglioni pieni, e scusate se c'è qualche bambino o bambina che ascolta, di vedere una persona condannata per omicidio e per violenza sessuale, che dovrebbe fare una cosa la mattina, lui si sveglia, no? Perché adesso è libero, anche se non c'è un processo tra un po' che dovrà affrontare, ma è libero. Lui dovrebbe svegliarsi la mattina, senza far colazione. Dovrebbe andare in chiesa, accendere un cerino al signore, alla madonna, se ci crede, e la terza persona dovrebbe essere Walter Biscotti. Lui dovrebbe accendere un cerino tutte le mattine, che il signore ci dà la fortuna di vivere, che dà a lui la fortuna di vivere da uomo libero, dovrebbe accendere un cerino a Walter Biscotti, che gli ha fatto prendere dodici anni effettivi, quando avrebbe dovuto prendere l'ergastolo in tutti i paesi del mondo. E quindi non solo non fa questa cosa, ma va a pontificare in podcast, libri, scuole, conferenze, dove è la vittima del sistema, Amanda, Raffaele, lui... Allora, cosa dice questo podcast? Cosa dice Rudy? E che cosa dice, diciamo, la narrazione popolare su questo caso? Lasciando, togliendo Amanda e togliendo Raffaele dall'equazione. Loro sono colpevoli, secondo la narrazione, generalista, per una serie di indizi. Andiamo a parlare di questi indizi. Anche perché poi voi mi avete chiesto, eh, ma lo staging, tu ricevi dello staging, tu ricevi delle sentenze, tu ricevi di questo. Andiamo con ordine, partiamo dalle sentenze. Mi avete scritto in 200 dicendo questa cosa, che è sacrosanta, e infatti adesso ve la spiego. Palla, dici sempre che bisogna partire dalle sentenze, però nel caso Meredith non parti dalle sentenze e dici che le sentenze non contano. Non c'è un'incoerenza tra questa cosa, poi magari me l'aveste, alcuni me l'hanno scritto così, altri invece mi hanno mandato a quel paese chiedendomi questa cosa. E io dico, certo. Perché io dico sempre che dobbiamo partire dalle sentenze? Perché di solito le sentenze sono il punto più alto, no? la somma, ok, di una serie di una serie di processi, una serie di atti che viene messo insieme e si ottiene una sentenza. Innanzitutto io non ho mai detto che una sentenza non possa essere criticata. Cioè una sentenza può affermare una cosa falsa. Per esempio, la quarta sentenza del caso di Meredith, quella di Firenze che ricondanna Amanda Raffaele, è piena di sbagli oggettivi. Non è che lo dice, palla. Lo dice poi la Cassazione. Piena di sbagli oggettivi. Questo va detto, perché se no non siamo intellettualmente onesti. Ma ho sempre detto una cosa in più, perché la gente ascolta soltanto quello che vuole sentire. Ho sempre detto. Le sentenze vanno lette, studiate, eventualmente criticate, ma soprattutto rispettate. Ma nel caso specifico di Meredith Kercher c'è un sito che si chiama themurderofmereditkercher.com dove ci sono tutti gli atti pubblici. Non è che ce li ho solo io perché faccio parte dei poteri forti. Lo potete leggere tutti quanti. Dentro lì ci sono tutti gli atti. E allora, se uno ha voglia, ci impiega, sono 40.000 fogli, 50.000 fogli più o meno, si mette lì e si li legge tutti. Ma non basta leggere, bisogna studiarli, confrontarli, analizzarli, immaginare che cosa può essere, si confronta, un casino. dato che questo lavoro io lo faccio non da solo, con alcune persone, da anni mi prendo il diritto di dire che le sentenze che non hanno fatto il lavoro che abbiamo fatto noi sono incomplete. Non sono sbagliate, sono incomplete. Perché su alcuni aspetti, tra cui, per esempio, lo staging di cui adesso parliamo, il famoso staging della camera di Filomena Romanelli, è una cagata. Punto. Ma non è che è un problema. È un problema il non ammetterlo. È un problema il continuare a dire eh ma c'è lo staging. Allora, partiamo dallo staging. Staging che, nelle quattro sentenze che anticipano la Cassazione, viene sempre confermato. Si va nella Cassazione, quindi quella che assolve Amanda Raffaele, anche ovviamente nelle sentenze di Rudy si parla dello staging, e viene confermato. Nella sentenza di Rudy, nella sentenza, scusate, di Cassazione si conferma lo staging, ma, c'è un ma, si inizia a porre il dubbio sull'effettiva certezza che quello potesse essere o meno uno staging. Cioè, quantomeno c'è un dubbio, no, ragionevole o no, c'è un dubbio che quello possa effettivamente essere o meno uno staging. 60% sui hotel. Quindi, se sia il concerto di Cousin Kevin Kazoo in Kansas City, go Kevin! O Becky's Bachelorette Bash in Bermuda. Non devi perdere un trip ancora. Quindi, download the Priceline app oggi. Le tue salite sono aspettate. Go to your happy place for a happy price. Go to your happy price, Priceline. Ora, cosa abbiamo fatto noi? siamo andati a rivedere foto per foto, fotogramma per fotogramma e, diciamo, perizia per perizia come si è arrivati alla certezza da parte dei giudici, degli inquirenti prima e dei giudici poi, che quello fosse uno staging. Come nasce? Qual è la genesi? La genesi dello staging, per chi non se la ricorda, c'è un sasso nella stanza di Filomena, nella stanza di Filomena c'è, secondo la versione ufficiale, ci sono dei vestiti con sopra i vetri, quindi, secondo la versione ufficiale, Amanda e Raffaele hanno prima disordinato la stanza, poi, da dentro, avrebbero lanciato il sasso contro la finestra che sarebbe caduta sui vestiti. Questo è l'idea, quindi, Mignini avrebbe visto, uso questo condizionale, poi vi spiego perché uso il condizionale, avrebbe visto dei vetri sopra i vestiti, avrebbe poi notato che in casa non mancava nulla, soprattutto nella camera, erano ancora presenti computer, macchina fotografica, alcuni gioielli e degli occhiali e borsa firmate e quindi non c'è stato furto e quindi è uno staging. Questo è l'ipotesi. Attenzione, l'ipotesi non è stupida, non è una cagata, non è un'ipotesi che dici è una minchiata, è un'ipotesi. E qui c'è un punto secondo me fondamentale, quando uno formula un'ipotesi su un omicidio, in questo caso, ma su un reato, io credo che sia fisiologico, normale, naturale che una persona formuli un'ipotesi. Il problema è che poi bisogna dimostrare questa ipotesi. Ora, voi andate a vedere le foto, tra l'altro foto della scientifica che vengono scattate prima che Mignini entri effettivamente dentro quella stanza. Andate a vedere le foto, ripeto, anche quelle chiaramente sono pubbliche. Su quelle foto, se voi andate a zoomare, cosa che chiaramente noi abbiamo fatto, foto per foto, fotogramma per fotogramma, in quasi nessuna foto ci sono dei vetri sopra i vestiti, ma in molte foto ci sono dei vetri sotto i vestiti. Quindi, quello che esattamente confermerebbe il fatto che è uno stage, che è una, che è esatto, che è successo, che c'è stata un'effrazione da fuori. Poi viene detto un ladro, questo è nelle sentenze, un ladro esperto mai sceglierebbe quella finestra, perché è una finestra che dà sulla strada. Anche qui non è vero, non è così. Questa è una cagata. Perché? Quella è una finestra particolare e quella di Filomena. Perché è una finestra particolare? Perché è una finestra che ha due vantaggi enormi per un qualsiasi ladro, anzi tre. Partiamo da quello meno importante, secondo me. se Rudy fosse entrato da un'altra finestra, dalla parte opposta della strada, con le macchine che passavano, contate che era novembre verso le nove di sera, otto e mezza, nove di sera, quindi era buio, con le luci avrebbero illuminato esattamente quella casa, quindi c'era un rischio maggiore di essere visto. Ma aggiungo un'altra cosa, anzi altre due cose. Quella finestra era l'unica finestra in cui innanzitutto c'era questa specie di parapetto per cui il masso, il sasso poteva essere lanciato a tre metri di distanza ma alla stessa altezza non come ipotizzano gli inquirenti e qui la cassazione di massacra su questo aspetto perché c'è la famosa narrazione dell'accusa che ma chi è quell'idiota di un ladro che va quattro metri sotto e lancia un sasso sopra rischiando che se manca la finestra il sasso gli ricade in testa. È evidente che non possa essere andato così ma questa è una cazzata. La realtà è molto più semplice. C'è un parapetto dove a tre metri di distanza c'era la finestra di Filomena e il sasso poteva essere lanciato comodamente. Abbiamo tra l'altro fatto degli esperimenti dove uno di noi è andato in una cava e ha lanciato un sasso corrispondente che veniva lanciato pesava circa quattro chili che veniva lanciato a tre metri ed è un lancio tutto sommato assolutamente agevole. Ok? Quindi la finestra poteva essere scelta e doveva essere scelta e vi aggiungo io è stata scelta perché era la finestra innanzitutto che era più facile da raggiungere con un sasso. Secondo aspetto era l'unica finestra che garantiva una via di fuga perché ora voi dovete immaginarvi perché immagino che tutte le persone che ascolteranno questa puntata tendenzialmente non hanno mai fatto un'effrazione io neanche però diciamo che ci siamo messi nella testa di un eventuale ladro. Immaginiamo che Rudy sia arrivato abbia guardato intorno e nota che in casa non c'è nessuno ma lui lo può sapere in maniera superficiale non può sapere se c'è qualcuno a letto. Quindi cosa succede? Se tu lanci un sasso poi non è che ti fiondi dentro aspetti e vedi se c'è una reazione perché se tu lanci il sasso è una camera di Filomena e si accendono le luci di sotto le luci di sopra e c'è qualcuno in casa cosa fai? Scappi. E la finestra di Filomena è l'unica finestra che garantisce una via di fuga diretta perché da lì a 50 metri eri in strada e da lì potevi dileguarti senza destare troppi sospetti. Quindi questo è successo che Rudy ha lanciato il sasso ok? Che è entrato che ha sbattuto contro la persiana e c'è il segno della persiana che infatti poi fa cadere il sasso sotto la scrivania è proprio un tiro perfetto un tiro geometrico tanto di questo tiro geometrico c'è una perizia l'ho citata anche nella puntata con Amanda e Jayax perizia Pasquali che è una perizia chiara limpida che nessuno ha mai contestato al punto che Mignini stesso durante il processo dice va bene allora sto sasso la vanno intendendo Amanda e Raffaele lanciato da fuori ma che senso ma secondo voi Amanda e Raffaele con la casa vuota con un cadavere dentro colpevoli vanno fuori con quindi tutto il vicinato che li può vedere e lanciano un sasso contro la finestra non è che lo lanciano da dentro non è che prendono un martello danno una martellata al vetro e fanno lo staging da dentro con le persiane chiuse cercando di non farsi vedere no vanno fuori e lanciano e lanciano lo sasso cioè una roba un'idiozia totale ma vi dirò di più ci sono altre due cose che secondo me confermano in maniera inequivocabile che quello non è uno staging e che Rudy è entrato da quella porta primo punto nessuna teoria accusatoria ha mai spiegato lo staging cioè hanno sempre spiegato l'idea dello staging cioè Amanda e Raffaele vogliono far pensare che è stato un ladro ok questo è interessante però se noi prendiamo questa frase che ho appena detto Amanda e Raffaele vogliono far pensare che è stato un ladro uno poi va a analizzare il contesto del caso e scopriamo che nella stanza del delitto dove non ci sono tracce di Amanda e Raffaele ci sono tracce di una persona che ha almeno quattro reati di furto alle spalle per cui non è ancora stato indagato ma che ci sono delle prove molto sostanziose che puntano dalla sua parte sono quelli famosi di cui abbiamo parlato con J-Ax tra Montano del asilo del prato il furto Brocchi Manu Diaz e l'altro furto all'asilo cioè capite la follia Amanda e Raffaele lanciano un sasso per far credere che sia entrato un ladro e guarda caso nella stanza del delitto ci sono le tracce di un ladro cioè una follia no? pensate com'è com'è complicata questa cosa quindi nessuna teoria accusatoria ha mai spiegato come hanno fatto effettivamente lo staging quando lo avrebbero fatto ma aggiungo di più c'è secondo me una persona che conferma indirettamente ma per me è una conferma gigantesca che quello non è uno staging e che Rudy è entrato ed è lo stesso Rudy e lo fa in due occasioni la prima è secondo me la più lampante cioè Rudy ha un problema quando inizia a raccontare la sua storia facciamo un passo indietro e iniziamo a parlare va bene lo facciamo dopo però vi racconto prima questa dai facciamo andiamo in ordine perché se no inizio a straparlare poi non mi seguite più allora quando è che Rudy conferma indirettamente? Rudy ha un problema nella sua grande storia di vittima dove lui sta cagando con la musica e gli ammazzano Meredith e lui esce a soccorrerla e poi scappa questa narrazione meravigliosa lui ha un problema essendo chiaramente fantasia essendo completamente una roba a cui uno dopo che ha studiato perché uno prima di studiare guarda la Leosini dice vabbè ci può assustare molto sfigato però invece è fantasia è un romanzo è il signore degli anelli che è capolavoro ma non possiamo dire che sia reale cosa succede? succede che lui ha un problema narrativo forte cioè lui deve giustificare il suo ingresso in casa dalla porta principale e allora dice per tantissimo tempo che lui aveva un appuntamento con Meredith questa cosa ovviamente non ha nessun riscontro non ha riscontro telefonico non ha riscontro con le amiche non ha riscontro con nessuno allora cambia un po' dice no ma non era un appuntamento ufficiale non è che ci eravamo scambiati la bolla papale però ha già un appuntamento perché questo basta che guardate la Leosini tanto se volete che facciamo una live reaction dove commentiamo ogni minuto di Storia Maledette di Rudy dalla Leosini fatemelo sapere che lo facciamo dalla Leosini lui dice no ma noi ci siamo andati appuntamento lì davanti perché non era ufficiale io passavo di lì così poi adesso nel suo libro dice che non c'è nessun appuntamento che si sono visti per caso cioè lui ha quel problema lui deve spiegare come è entrato in quella in quella casa dalla porta principale non essendoci entrato perché ve lo dico io che è entrato dalla finestra quindi non essendo entrato dalla porta principale lui ha bisogno di un espediente narrativo che gli permetta no di giustificare il suo ingresso e quindi dice no ma c'è questo appuntamento con Meredith che non è vero Meredith in quel momento era sentimentalmente non impegnata non è che era fidanzata con 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 Giacomo ma stava iniziando una una frequentazione con con Giacomo del ragazzo del piano di sotto lei sembrava comunque abbastanza coinvolta lui pure questo ce lo dicono le amiche di Meredith non è che gente che non aveva nessun interesse a raccontare Fandogne quindi è lui stesso che si inventa un pretesto perché perché Rudy che è una persona di una forbizia devastante lui dice io sono entrato da lì con l'appuntamento così poi posso no parlare del petting che facciamo perché io devo giustificare le mie tracce dentro di lei e quindi dico il dittino birichino e quelle solite cose anche qua Fandogne Fandogne ma dopo ci torniamo ma è lui che indirettamente ci convince dello staging cioè della falsità dello staging perché lui non sa come giustificare il suo ingresso in quella casa attraverso la porta perché non è mai successo e quindi ogni volta racconta una versione diversa c'era un appuntamento non c'era un appuntamento passavo di là non passavo di là ogni volta racconta una versione diversa di un fatto molto specifico ma di un fatto che è fondamentale perché lui all'inizio dice che la sera prima questo dalla Leosini c'è la sera prima si sarebbero baciati quando lui dice ci siamo guardati ma nel libro questo bacio scompare perché sono tutte puttanate scusate il termine ma mi agito e qui per me c'è un altro punto fondamentale scusate prendo i miei appunti perché se no oh passiamo un altro punto secondo me interessante scusate no ho sbagliato il dove cazzo scusate sto cercando una roba che non trovo più allora altra cosa fondamentale che si attacca a una cosa che Rudy dice in continuazione che io non sopporto più cioè lui dice io non sono mai stato condannato per omicidio io sono stato condannato per concorso con Amanda e Raffaele ma se loro sono stati assolti e con chi l'ho fatto sto concorso ecco questa è una domanda banale cioè è evidente che se tu vieni condannato con altri due quei due poi vengono assolti e rimani solo tu e questo sembra anche la palissiano no mi sembra anche abbastanza evidente questo perché spieghiamo questa cosa allora sapete che Rudy e per quello che vi dicevo all'inizio dovrebbe accendere un cero a Walter Biscotti tutti i giorni che il signore gli dona su questa terra Rudy fa il rito abbreviato quindi quando inizia in realtà il processo di Amanda e Raffaele lui finisce il suo ok nel rito abbreviato la difesa non esibisce nel caso poi di Rudy non ha esibito alcuna prova difensiva si ci sono il processo il rito abbreviato è stato basato su gli accertamenti fatti dal PM in quel momento in quel momento il PM aveva in mano il coltello con sopra il DNA di Mary di Tamanda che poi si è rivelato puttanata il gancetto del reggiseno di trovato 50 giorni dopo 46 giorni dopo con sopra il DNA una infinitesima traccia di DNA di Rudy e di Raffaele che è anche quella poi dopo davanti a un'analisi seria è un dibattimento serio si è rivelato contaminato e no è una puttanata quindi è chiaro che in quella sentenza dove tra l'altro Amanda e Raffaele non ci sono non si possono difendere non sono interpellati non hanno un avvocato non possono presentare perizie analisi e controinchieste come fanno a difendere non si possono difendere e quindi cosa succede che stante quelle quegli indizi e quelle prove in quella sentenza si dice che Rudy ha partecipato con Amanda e Raffaele ma quel processo di Rudy non è che ha nessuna influenza su Amanda e Raffaele perché Amanda e Raffaele hanno il loro processo che si è svolto talto in 5 gradi di giudizio e che ha accertato in maniera definitiva che loro in quella stanza non c'erano poi parliamo anche del perché non erano in quella casa arriviamo anche lì non vi preoccupate e attenzione adesso a questo passaggio che è fondamentale tutte le sentenze dicono una cosa sbagliata questo ve lo metto per iscritto qua adesso cioè tutte le sentenze dicono che l'omicidio è in concorso perché per generare quelle ferite era necessaria la compresenza di almeno due persone due o più persone ora come si arriva a questa deduzione si arriva a questa deduzione perché Meredith ha poche ferite poche non è che non ne ha attenzione perché anche qua la narrativa Meredith faceva la narrativa è questa Meredith era una karateka di livello mondiale non era vero aveva preso alcune lezioni come dire che ho preso quattro lezioni di arrampicata allora sono Alex Honnold e non è così era una karateka di livello mondiale non è vero e non aveva ferite da difesa ne aveva poche per esempio sulle mani aveva alcune ferite da difesa detto ciò cosa voglio cosa voglio dire che l'accusa gli inquirenti stabiliscono anche qui con un'ipotesi che non è mai stata dimostrata attenzione questo voglio spiegarvi in maniera chiara esattamente come lo staging è un'ipotesi che mai viene dimostrata ma anzi viene dimostrato l'opposto attraverso la perizia pasquali che determina in maniera definitiva che il sasso è stato lanciato da fuori dal parapetto che c'è di fronte alla camera di filomena ci sono cinque dottori diversi che adesso vi cito torre baci lalli cingolanni in drona che stabiliscono in maniera definitiva perché non è mai stata come faccio a dire palla come fai a dire che è definitiva le hai lette si le ho lette ma tu sei un tecnico no non sono un tecnico ma uno ha logica come fa a stabilire che è una perizia definitiva se non esiste qualcuno che gliela smentisce se io faccio una perizia dove dico che la terra è piatta e uno una persona seria mi dice hai detto una cazzata e mi smonta tutto no il mio argomentare allora vedete che non può più essere definitiva la mia visione ma di fronte a cinque medici che dicono tra cui in trona c'è anche il video di in trona che simula esattamente le ferite fatte da una singola persona ok cinque medici che dicono in maniera definitiva a parte a parte Lalli che non dice però che ce ne erano più di due Lalli dice non è dimostrabile secondo lui se le ferite erano state fatte da una o più persone che non vuol dire che sono state fatte due persone dice che non è dimostrabile e quindi cosa sta dicendo Lalli che è stato il primo a mettere le mani sul cadavere della povera Meredith che entrambe le ipotesi devono essere vagliate che non si può definire che quindi sono state più di una persona cinque medici dicono in maniera definitiva e la perizia in trona che se volete vi linko è la perizia più definitiva completa e secondo me totale sull'argomento che le ferite di Meredith erano compatibili con un singolo aggressore torniamo al punto di partenza di chi erano le uniche tracce dentro la stanza Rudy perché Rudy viene condannato in concorso perché poi Rudy nel podcast che mi ha mandato Domenico vedete che Domenico si è palesato in chat e che ringrazio in quel podcast Rudy dice una cosa dice come mai sono stato l'unico a finire in carcere quando i giudici nella mia sentenza scrivono che io non aprevo il coltello che io non ho non l'ho coltellata che io l'ho soccorsa che io che io che io allora innanzitutto come diceva giustamente oggi la persona con cui appunto stavo preparando questa puntata se gli hanno dato prima 30 anni e poi grazie a rito abbreviato e a un po' di giri gli hanno dato i 16 non è che era lì a guardare a dire no no fermatevi vi prego povera Meredith cioè anche lui ha partecipato ma lui viene esonerato dalla parte esecutiva dell'omicidio per un motivo che poi si rivela falso perché perché dicono i giudici della sua sentenza che ripeto è una sentenza che non ha avuto dibattimento è una sentenza che condanna per via Dravet condanna Rudy e sostanzialmente condanna Amanda e Raffaele che però non hanno mai avuto la possibilità di difendersi in quella sede ma hanno avuto possibilità di difendersi in altre sedi che infatti li hanno visti poi innocenti detto ciò cosa succede i giudici dicono che Rudy non può aver sferrato le coltellate perché ci sono le tracce delle sue sulle maniche della felpa di Meredith e quindi dicono lui stava tenendo ferma Meredith mentre Amanda perché Amanda perché in quel momento il reperto 36 che poi si è rivelato essere una puttanata il reperto 36 aveva in quel momento storico aveva c'era la certezza che ci fossero le tracce di Meredith sulla lama e di Amanda sul manico e quindi i giudici dicono data quella prova che poi ripeto con un dibattimento serio è stata smontata data quella prova è evidente che le coltellate siano state date da Amanda mentre Rudy è evidente che la tenesse ferma ma nessuno ha mai detto questa però si basa questa logica questa deduzione questa ipotesi questo ragionamento si basa su un presupposto sbagliato cioè che quel coltello fosse stato impugnato da Amanda dato che il coltello che ha ucciso Meredith non è mai stato trovato attenzione il coltello che ha ucciso Meredith non è mai stato trovato anche qui altra puttanata scritta nelle sentenze perché a me piace dire così però sono delle cose vere perché nelle sentenze c'è scritto che i coltelli sono due perché ci sono dei tagli differenti smentito ancora smentito i coltelli erano solo il coltello era solo uno anche qua bisogna essere precisi sulle cose perché ci sono delle perizie mai smentite dagli inquirenti che dicono delle cose chiare bisogna leggerle studiarle e analizzarle perché se no si finisce nel dire tutto il contrario di tutto e si finisce nel dire che i poteri forti Amanda Raffaele compagnia non è vero a me spiace dirlo ripeto io non è che guadagno dei soldi a dire che Amanda e Raffaele sono magari qualcuno mi ha detto ma Amanda ti paga ma magari Amanda mi pagasse ma io io l'ho detto a lei l'ho detto in puntata io ho iniziato questo podcast perché volevo dimostrare come Amanda l'avesse fatta Franca io sarei stato il primo a dire oh ho capito come ha fatto il problema è che ho capito che non l'ha fatto lei ragazzi c'è poco da da stare qua a diventare matti tornando a quindi il concorso non c'è nessun concorso non c'è nessun concorso non c'è nessun concorso giuridico perché per un per un cavillo legale tutto italiano tre persone che sono accusate dello stesso reato del medesimo reato vengono processate in maniera diversa uno in un processo senza dibattimento e due con un processo tradizionale questo siccome è una cosa folle cioè i tre dovevano essere processati tutti insieme e sarebbe stato lampante il fatto che una persona aveva tutte le prove contro e due persone avevano alcune cose ombrose sicuramente contro ma che non non generava non avevano la forza per essere considerati prova questo bisogna dirlo perché se no anche qua non facciamo una giustizia alla verità non c'è quindi concorso giuridico ma non c'è neanche un concorso nell'omicidio perché non esiste una perizia uno studio un'analisi una prova una testimonianza non esiste nulla che dimostri che Meredith sia stata uccisa da più di una persona ci sono invece cinque medici non palla non J-AX cinque medici che dicono che le ferite sono compatibili con un singolo aggressore da lì bisogna ripartire perché io sono un po' stufo che in tutti i processi mediatici noi conosciamo sempre la versione della difesa su Erba conosciamo benissimo cosa dice la difesa e non sappiamo nulla dell'accusa su Yara sappiamo benissimo cosa dice la difesa su quello sappiamo benissimo cosa dice la difesa in questo caso sappiamo solo quello che dice l'accusa non sappiamo non sappiamo che la difesa ha ricostruito adesso io lo posso dire in maniera ottima ci sono delle cose che mancano secondo me anche nella difesa io ho delle critiche poi anche la difesa di Amanda e Raffaele perché si sono troppo concentrati secondo me su Amanda e Raffaele e poco su Eru avrebbero dovuto secondo me anche nella comunicazione spingere molto di più sul fatto che c'era un assassino non su cosa non hanno fatto ma su chi ha fatto che cosa ma questo è un discorso che lasciamo a un'altra volta detto questo detto questo la difesa di Amanda e di Raffaele ha ricostruito a grandi linee che cosa è successo poi gli sono mancati alcuni guizzi di fortuna bravura ossessione però ha ricostruito ma noi non conosciamo la versione della difesa di Amanda e di Raffaele cioè di Rudy che è entrato dalla finestra ed è e poi nel libro ci sarà tutto la sequenza di come ha fatto ed è un'annostrazione che poi qualcuno dovrà smentire se è in grado e di come poi dentro quella casa siano successe determinate cose anche l'orario della morte è interessante ed è un altro aspetto su cui per me su cui io non capisco come cioè io divento matto allora gli inquirenti devono fare dei giri della morte per spostare l'orario della morte dopo le 11 sostanzialmente perché dopo le 11 perché prima fino alle 9 e mezza 9 e 40 i ragazzi hanno sostanzialmente un alibi che è Naruto quindi ha la perizia informatica poi c'è dalle 10 alle 11 qualcosa c'è un carroattrezzi che sta praticamente davanti a vedere la pergola quindi qualcuno avrebbe dovuto vedere due persone o tre persone entrare e poi correre via e quindi bisogna spostarlo dopo le 11 e mezza e quindi ovviamente arriva il testimone ci sono sempre i testimoni che compaiono magicamente dopo mesi c'è Curatolo che è meraviglioso perché Curatolo è un testimone fondamentale quel clochard che vede Amanda e Raffaele dalle 9 e mezza a mezzanotte li vede in piazza Grimana cioè non si capisce che cazzo far cosa guarda fermi tre ore fermi fuori al freddo al posto di andare a casa testimonianza meravigliosa poi c'è la Capezzali che vede che a 70 metri di distanza con i doppi vetri chiusi mentre dorme sente un urlo che però tutti gli altri vicini non sentono c'è tutta una serie di cose obiettivamente divertenti per spostare fuori dall'orario in cui il delitto è avvenuto e io ve l'ho già spiegato ma ve lo rispiego perché io sono gentile ve lo rispiego quando è avvenuto l'omicidio di Meredith Meredith fa l'ultima chiamata della sua vita alle 8.56 perché ci sono i tabulati alle 8.55 si separa dalla sua amica Sophie Parton testimonianza di Sophie si incammina verso casa in via della Pergola a 500 metri meno quindi deve camminare qualche minuto e quindi decide di chiamare la madre che in quel periodo era malata stava facendo la dialisi e quindi la chiamava sempre prima di cena erano circa le 9 in Italia quindi erano le 8 in Inghilterra la chiama e la mamma non risponde nei giorni precedenti quando la mamma non rispondeva alla chiamata seguiva una chiamata di Meredith qualche minuto 10-15 minuti dopo una chiamata una seconda chiamata Meredith non la farà mai questo cosa ci suggerisce perché l'accusa che dice che Meredith è tornata a casa alle 9 e che poi è stata a casa fino alle 11.30 non ha mai neanche provato a spiegare che cosa avrebbe fatto Meredith fino alle 11.30 perché il computer non lo utilizza non si capisce cosa faccia cioè è nebulosa che cosa Meredith avrebbe fatto fino alle 11.30 la realtà è molto più semplice Meredith entra e purtroppo dentro quella casa c'è già una persona che si è intrufolata per rubare che si è intrufolata dalla finestra e che viene beccata con le mani nella barmellata e da lì purtroppo per dei motivi che adesso non analizziamo scoppia una lite che termina purtroppo con la morte di Meredith punto questi sono i fatti l'omicidio di Meredith avviene tra le 9 9.30 esageriamo un quarto d'ora dopo 9.45 questo è cellulari di Meredith vengono lanciati alle 22.13 in via sperandio punto non c'è non c'è nessuna cosa che tenga l'unico tra l'altro Lally la prima persona che ha messo le mani su Meredith dice questa cosa viene licenziato per aver anticipato l'ora perché inizio aveva detto alle 11 poi dice alle 9 viene licenziato perché modifica cioè stiamo parlando di dati oggettivi anche qua quasi tutti i medici che hanno studiato il caso anticipano dato il contenuto gastrico di Meredith l'ora della morte tra le 9 e le 10 abbiamo dei cellulari i cellulari di Meredith hanno l'ultimo diciamo l'ultima interazione alle 22.13 secondo me l'ultima interazione non è di Meredith Meredith è già morta perché le interazioni dopo le 9 e mezza sono interazioni fatte evidentemente da chi non sapeva maneggiare il telefono quindi da chi ha rubato il telefono punto cioè Meredith è purtroppo morta tra le 9 e le 9 e mezza non c'è cioè nessuno ha mai dato una spiegazione alternativa efficace a questa a ciò poi sommiamo il movente il movente meraviglioso un festino finito male un litigio tra le due cioè non è andato così e quindi è fondamentale per me spiegare questi punti in maniera chiara e definitiva una volta per tutte ovvero lo staging non è uno staging è effettivamente da dove è entrato Rudy l'omicidio è stato effettuato da una persona sola ci sono cinque medici che confermano ciò per più la perizia definitiva di introna Rudy non ha nessun motivo per essere lì perché non ha mai avuto nessun rapporto con Meredith questi sono dati oggettivi l'orario della morte è tra le 9 e 9 e mezza punto vi dico di più di Rudy perché adesso andiamo a vedere la cronologia di Rudy allora Rudy che dice in tutte le interviste che lui non era un ladro viene visto da Tramontano viene beccato poi con la refurtiva del furto all'asilo del prato viene beccato d'ufficio degli avvocati perché poi quando viene beccato di là c'è la refurtiva viene beccato sempre quindi è anche un ladro scarso Rudy è stato un omicidio a furbo ma un ladro piuttosto scarso ma cosa succede? vediamo il chiamato questo capitolo degli appunti la cronologia di Rudy perché anche da la cronologia di Rudy non del telefono la cronologia dei suoi spostamenti emergono dei dettagli interessanti allora Rudy il 4 novembre quindi 3 giorni dopo aver ucciso Meredith Kercher va in Germania anche qua lui dice ho preso dei treni a caso e sono finito in Germania ma non sapevo neanche dove fossi incredibile vabbè arriva in Germania chiede asilo politico vuole chiedere asilo politico succede che il 12 novembre quindi al 12 novembre che situazione abbiamo abbiamo l'8 novembre che il questore ha detto che il caso è risolto perché in prigione ci sono Amanda Knox confessato Raffaele Sollecito c'è un'impronta della sua scarpa insanguinata quindi è stato lui e Lumumba perché è stato messo lì da Amanda quindi questo vi dice caso è chiuso sono stati bravissimi Perugia la città più bella del mondo il 12 novembre quindi quattro giorni dopo emergono alcune impronte alcune tracce alcuni elementi biologici di una quarta persona nella sentenza di Rudy si dice in maniera chiara che un amico di Rudy gli scrive su Messenger su MSN per cercare di parlarci ma Rudy gli dice che non ha tempo non può ed è evasivo il 18 novembre gli inquirenti scoprono che quelle tracce che hanno trovato il quarto uomo è Rudy Guede il 19 viene contattato da Giacomo il suo amico ok quindi il 19 viene contattato da Giacomo perché viene contattato da Giacomo e perché Rudy risponde a Giacomo perché il nome di Rudy è già su tutti i giornali quindi lui non è che parla con Giacomo e torna in Italia perché vuole far emergere la verità lo avevano già trovato lo avevano già beccato era già venuto fuori la sua vita era già finita dal punto di vista dell'anonimato era già un personaggio pubblico si sapeva già che lui era presente in quella casa nel momento in cui Meredith veniva uccisa e quindi lui fa la cosa in un certo senso più intelligente cioè si palesa si fa arrestare e viene portato in Italia ma non è il comportamento di uno che è quello che dice lui dalla Leosì no io stavo tornando anzi perché volevo chiarire la mia posizione no due palle non è così lui aveva il comportamento esatto di chi è colpevole scappa si nasconde e quando viene fuori il suo nome si fa vedere dice no ma ragazzi perché ha avuto 20 giorni 15 giorni per pensare a una ricostruzione che spiegasse tutto cioè spiegasse che cosa la sua presenza lì l'appuntamento con Meredith appuntamento che non esiste perché questo è fondamentale io so che continuo a ripeterlo ma questo è il punto fondamentale perché perché se lui non aveva un appuntamento con Meredith e noi sappiamo con certezza che non c'era un appuntamento con Meredith anche le sentenze lo dicono che non c'è traccia di un appuntamento con Meredith allora lui lì non può essere entrato dalla porta punto cioè non c'è un'alternativa l'alternativa perché se ci fosse un'alternativa lui l'avrebbe detta attenzione se ci fosse una terza strada io in una delle ricostruzioni negli anni di pencrime avevo detto magari doveva cagare no e dice a Meredith Meredith guarda io ti suono perché sto passando la via della pergola ma mi sto cagando addosso ma non l'avrebbe detto l'avrebbe detto e come se non l'avrebbe detto quindi il problema fondamentale è che non esiste una spiegazione logica razionale dimostrabile della presenza di Rudy in quella casa dove lui è passato attraverso la porta esiste soltanto una presenza di Rudy in quella casa dimostrabile dove lui passa dalla finestra di Filomena punto se passa dalla finestra di Filomena il resto se noi accettiamo e ripeto è un dato oggettivo che lui è entrato da quella finestra tutto lo svolgimento successivo è logico viene beccato scontro con Meredith fa quello che fa e scappa punto cioè tutto il resto poi certo ci sono i dettagli che non tornano alcune cose che non tornano siamo d'accordo ma tutto il resto è oggettivo e vi dirò di più il famoso tappetino no? ogni tanto qualcuno me l'ha scritto ma il tappetino c'è l'impronta di Raffaele non è di Raffaele perizia vinci vinci quello che ha fatto le perizie fondamentali del caso della sapienza uno dei più grandi in Italia da questo punto di vista uno dei perizi migliori in Italia fa due perizie fondamentali che andrebbero messe uno dovrebbe stamparsi le slides dovrebbe mettere sull'armadio e guardarle tutte la mattina e dire cazzo che bello perché ci sono due perizie di vinci su quel tappetino che dicono in maniera netta la prima è clamorosa che Raffaele ha una malformazione di uno delle dita dei piedi e quindi quell'impronta che invece ha quel dito del piede non può essere scientificamente la sua è dimostrato al 100% e in più vinci fa un'altra perizia sui piedi sia di Amanda che di Rudy e fa vedere in maniera anche qua siccome è inequivocabile e infatti la perizia non è mai stata smentita da nessuno che quel piede sul tappetino l'impronta del tappetino non è di Raffaele ma è di Rudy quindi ancora una volta tutte le tracce di sangue strano sono di Rudy poi voi mi dite eh ma le tracce di Amanda di sangue allora anche qua bisogna far sì bisogna far chiarezza primo punto su Amanda lei lo ha detto nell'intervista lei dice io ho notato del sangue nel bagno non era una quantità di sangue incredibile c'era del sangue lo nota lo dice lei ma non ho pensato che ci fosse qualcuno fosse stato un omicidio nell'altra stanza ora poi potete crederlo no io potevo anche richiederglielo perché non gliel'hai chiesto ha già risposto ma ovviamente mi avrebbe ripetuto le stesse cose il sangue commisto Amanda Meredith non è stato nessuno in grado di dimostrare che fosse cioè che la goccia di sangue di Meredith fosse caduto in un punto dove c'era del DNA di Amanda nel bagno di Amanda nessuno ha mai dimostrato che fosse contestuale all'omicidio cioè che quella traccia di sangue l'avesse lasciata Amanda perché aveva toccato il sangue di Meredith non è dimostrabile quello non possiamo saperlo cioè io voglio ragionare con voi su dei fatti oggettivi detto ciò immaginiamo anche che vogliamo inserire Amanda per forza colpevole che va bene se qualcuno mi porta una dimostrazione che Amanda era fuori di casa ed era lì io sono contento perché anche qua vogliamo parlare della Cassazione parliamo della Cassazione la Cassazione assolve Amanda e Raffaele io questa cosa l'ho detta anche nell'intervista dicendo che non c'erano prove non c'era non c'era alcuna prova che dimostrava la loro presenza all'interno della stanza ma c'erano sufficienti prove per dimostrare che erano all'interno della casa e io ho detto nell'intervista con Ax e con Amanda che era una puttanata questa roba perché è una puttanata perché tu vuoi assolverli giuridicamente ma li condanni sostanzialmente alla pubblica agogna perché è evidente che se uno dice in questa casa c'è stato un omicidio palla non l'ha commesso ma era dentro la casa è evidente che sono indirettamente responsabili ora questa cosa anche qua è stata ripetuta da Rudy nel podcast con la Fanelli e io dico andiamo a leggere la sentenza vediamo cosa dice la sentenza la sentenza dice questa cosa si la dice lo dice ok ma su cosa basa la sentenza questo dettaglio cioè questo che non è un dettaglio questo questa questo fatto secondo la sentenza lo basa su due cose sul memoriale sostanzialmente e sulle stranezze di Amanda ma non c'è nulla nulla di oggettivo perché il memoriale di Amanda anche qua è pubblico leggetelo non è che vi voglio convincere della mia versione perché il memoriale di Amanda che ha condannato Amanda due settimane fa ha gli tre anni di calunia che ha già scontato ma ha riconfermato la la pena è pubblico andate a leggerlo questo memoriale se voi prendete delle frasi estrapolate a un certo punto lei dice confermo quello che ho detto ieri sera no è certo che dopo c'è un'avversativa perché dice ma mi sembra tutto un sogno mi sembra troppo strano ma all'inizio lei dice chiaramente che è stata forzata dalla polizia tutto quanto cioè questo memoriale che è un memoriale di una persona chiaramente che non è in uno stato mentale completamente lucido perché perché viene da una notte dove è stata sveglia tutta la notte l'hanno pressata l'hanno lei dice lei continua a dire torturata secondo me la parola sbagliata non è stata torturata secondo me è stata messa molto in difficoltà è stata non saprei se esiste una parola corretta che spiega quello che ha passato Amanda però il giorno dopo lei non è in uno stato mentale secondo me completamente logico razionale ma il suo memoriale secondo me è un memoriale di una persona più innocente che colpevole perché dice io ho detto quelle cose ma mi sembrano una puttanata però me le hanno dette perché mi hanno dimostrato che avevano delle prove che io ero lì ma io non mi ricordo di essere lì questo è un po' il senso ma non esiste nessuna prova fisica oggettiva neanche nella sentenza di cassazione che piazzi Amanda e Raffaele lì Raffaele viene messo lì perché era sempre con Amanda ma Amanda era lì e quindi c'è anche Raffaele che è una cagata senza precedenti Amanda viene messa lì unicamente per il suo memoriale perché lei si autopiazza lì ma capite che non ha nessun senso quindi anche Rudy che continua a dire eh ma Amanda e Raffaele erano lì non è vero perché non è vero perché si basa il ragionamento dei giudici su un presupposto sbagliato e arrivano a una conclusione che non è dimostrata dai fatti e questo io sono stanco davvero stanco di leggerlo anche nelle sentenze del caso che questo è un processo indiziario questo non è un processo indiziario eh no sono tanti processi indiziari che abbiamo analizzato tantissimi processi indiziari questo non è un processo indiziario questo è un processo con delle prove con delle prove gigantesche che puntano nella direzione che però a tante persone piaceva meno rispetto alla direzione che tutti un po' si auspicavano cioè la direzione con Rudy perché comunque ci sono un po' di tracce sue e ci deve stare e Amanda e Raffaele ma le prove e ripeto questo non è un processo indiziario le prove puntano tutte in un'altra parte puntano da una persona che era solita fare furti tra l'altro aveva appena fatto un furto la settimana prima con le stesse modalità lanciando una pietra ed entrando dagli avvocati un paio di settimane prima una settimana adesso vi dico anche il giorno ce l'ho scritto qua gli avvocati gli avvocati 13 14 ottobre quindi due settimane prima fa un furto esattamente identico due settimane prima fa un furto esattamente identico entra viene beccato e al posto che costituirsi decide per dei motivi che io posso solipotizzare questa sì che è un'ipotesi e infatti non lo dico pubblicamente perché per adesso è solo un'ipotesi poi sto cercando di stiamo cercando di farla diventare una certezza ma io vi parlo di dati oggettivi e che possiamo andare davanti a qualunque giudice dimostrare questo è un processo assolutamente legato alle prove è entrato da lì è stato beccato ha fatto quello che ha fatto ed è scappato punto il resto è rumore di fondo fanciulli io spero di avervi raccontato un po' meglio il caso noi ci vediamo non vi lo faccio sapere domani perché io domani ho vabbè tanto per chi ascolta comunque domani o martedì con la seconda e ultima puntata del caso di Aral Gabriele io vi saluto e vi ringrazio e vi do appuntamento alla prossima puntata di Deepin Crime ciao a tutti